Buongiorno a tutti, benvenuti alla penultima partita del campionato di eccellenza Gironea tra Vigor per Conti e il città di Cerveteri. Di Borgia per la Vigor, allarga a destra, bene la squadra di casa, Zucchelli la gioca con Russo che punta a Lusari. Ancora Russo in area di rigore e arriva il vantaggio della Vigor per Conti, subito dopo pochi minuti al quarto minuto con il numero 11 Damiani. La riconquista ora Savarino e ricomincia da Filangeri, in verticale Filangeri verso Paraship, la tiene il numero 11. La gioca in area di rigore, la spizzata sotto misura di Mauro, colpisce il palo, non era neanche fuori gioco e quindi enorme occasione per il Cerveteri che per poco non trova subito il pari. Il set è in possesso di Giovanni, lo conosciamo bene ogni volta che punta l'uomo è difficile che non lo riesca a saltare. Filangeri, vuole l'1-2, buona la giocata di Paraship, in area di rigore, bellissima l'azione della città di Cerveteri. Vuole l'1-2 con Borgia che subisce fallo, attenzione a Russo, all'imene l'aria, Russo se la porta sul sinistro perde il momento, la gioca con Moro, ha spazio per metterla al centro. La palla arriva ora, la spizzata di Pekiron! Sul pallone per l'angolo, De Bartolo, tutto il Cerveteri ancora a difendere, De Bartolo in area di rigore, ancora Damiani di testa per poco non trova la doppietta personale. Ora Savarino in area di rigore, la spizzata di Paraship, Trinchera con i pugni, bella la palla di Savarino per Paraship, attento però, Trinchera. Ad arrivare di Giovanni, c'è in copertura De Bartolo, pallone in verticale con Damiani, in area di rigore, Damiani, Damiani, ancora Damiani, se la porta sul destro e il tiro, portoghesi, subito, grande occasione per la Vigor per Conti, aveva saltato tutta la difesa del città di Cerveteri, Damiani un po' confusa, la tiene al limite il Cerveteri. Silvagni vuole l'1-2 con il tiro da parte di Di Mauro e colpisce il palo, secondo palo colpito dal numero 5, sfortunatissimo, al 51esimo. Parte Russo, diretto in porta, e arriva il raddoppio della Vigor per Conti, al 65esimo con la rete, su calcio di punizione di Russo. Salta, secco, tre carichi, ancora Russo, la gioca fuori con Borgia, che si appoggia con Bagliere. Pallone tra le linee, attenzione perché è un 3 contro 3 per la Vigor per Conti, se la porta sul destro e prova il tiro, a girare! Con Finucci in pressing, la recupera Finucci in area di rigore, Finucci, Finucci, Portoghesi, grandissima occasione sprecata dalla Vigor per Conti con Finucci. Attenzione alla ripartenza della Vigor, un 2 contro 1, Finucci la gioca in area di rigore per la conclusione di Francioni e arriva il 3 a 0 della Vigor per Conti, blackout Cerveteri che si è fatta trovare in preparata. Arriva all'85esimo, il 3 a 0 della Vigor per Conti con Francioni. La spizzata di Di Mario non arriva, rimessa dal fondo, finisce qui il match. Vigor per Conti 3, città di Cerveteri, 0, primi 3 punti per la Vigor per Conti. Man of the match, mi sento di dire, un baglie per la Vigor per Conti. Dama Soccer Player, per voi è tutto, una buona domenica. Grazie.